Una bella riflessione quella che Gemma Galgani, nota protagonista del trono over di Uomini e Donne, regala ai suoi tantissimi fan su Facebook. Ispirata da questi giorni di festa e solitamente ricchi d'amore, la Galgani scrive, arrivo in ritardo perché avrei tante cose da dirvi e mi ricongiungo al pensiero di ieri sera con la speranza che l'amorevolezza respirata in questi giorni non resti isolata, così continua, penso che uno dei problemi più sentiti ma che non vogliamo riconoscere per noi stessi e per il prossimo sia la solitudine cerchiamo di alleviare chi per pudore la nasconde, riconoscendola da soli. Tantissimi commenti che Gemma ha scaturito con questo post, c'è infatti una fan che nota, nel tuo augurio a tutti noi si cela un insegnamento molto importante, stare accanto a chi si vuol bene e anche a chi notiamo essere solo. Ti voglio un mondo di bene. Sei una persona meravigliosa. Anna Montesano I fan di Uomini e Donne in particolare del Trono Over ricorderanno sicuramente Gianluca Mastelli. Si tratta di un ex cavaliere dello show di Canale 5 che lasciò lo studio dopo un po' di polemiche e sospetti che portarono la stessa Maria De Filippi a decidere di cacciarlo dal programma. Gianluca aveva conosciuto Erika al Trono Over ed entrambi avevano lasciato lo studio, intraprendendo una relazione nel 2015 che si è però conclusa qualche tempo fa. Oggi però arrivano importanti novità sul conto di Gianluca Mastelli, l'ex cavaliere del Trono Over uomini e donne non solo ha ritrovato l'amore con Martina, ma è pronto a convolare a nozze. Appare chiaro da alcuni scatti social attraverso i quali è lui stesso ad annunciarlo ai suoi follower. Non ci resta che fargli i migliori auguri. Anna Montesano Il Natale è ormai alle spalle ma a quanto pare la bella Gemma Galgani potrebbe non aver passato queste prime feste da sola. Il suo messaggio lascia pensare che ci sia la possibilità che la dama torinese di uomini e donne sia stata in dolce compagnia in questi giorni. A far venire il dubbio ai fan è proprio la dama che ha lasciato intendere di aver passato le feste in compagnia e questo le ha permesso di far passare il tempo ancora in più in fretta. Si tratta solo di parenti e amici di sempre o di un nuovo cavaliere conosciuto in trasmissione. La dama scrive, è pazzesco come tanto venga atteso un giorno che poi invece passa senza neanche accorgersene. Quando si sta bene il tempo passa più veloce no? Ed è proprio così. Anche questo Natale sta avvolgendo al termine. Le festività però non sono finite. Domani sarà a Santo Stefano di una cosa sicuramente ne avremo abbastanza, il cibo. Per il resto, l'amore che si è respirato in questi giorni è impagabile. Ora riposatevi. Buonanotte e ancora Buon Natale. E ancora single? Mentre le parole di Gemma Galgani vengono sempre accolte con il sorriso e con le belle parole da parte dei suoi fan, lo stesso non si può dire di Anna Tedesco che è stata presa di mira anche a Natale. La dama si è messa in gioco e si è scoperta troppo nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne e ha finito con bruciarsi. La sua particolare amicizia con Giorgio Manetti, il voler parcheggiare guido in un albergo per poi essere libera e le insinuazioni da parte dalla 500 alla 1 Gianni Sperti e Gemma Galgani l'avevano spinta a lasciare il programma salvo poi tornare per chiarire delle cose con Giorgio Manetti, reo di aver fatto credere chissà cosa su di loro. A Natale, Anna ha fatto avere i suoi auguri ai fan scrivendo, Buon Natale agli ultimi, ai dimenticati, a chi ha lottato per tutta la vita contro la sorte ed oggi lotta contro l'indifferenza. A chi ha perso il treno giusto e la vita non gli ha concesso una seconda possibilità. Virgola, Buon Natale a chi crede alla famiglia e, se ci crede, ha il dovere di pensare anche a chi non ha una famiglia. Buon Natale a tutti quelli che desiderano e sperano in un mondo migliore. Ai portatori di pace, ai volontari dei vari enti. Buon Natale a tutte le anime benevole di quest'umanità. Buon Natale anime belle. I commenti non sono stati tutti positivi per lei e se qualcuno le ha dato della ridicola, altri sembrano pronti a non rivederla più nel programma. Tornerà. È da Hopper. Il trono over di uomini e donne ha chiuso i battenti all'insegna di Giorgio e Gemma ma le registrazioni hanno già rivelato che il gabbiano ha detto no e la dama torinese se ne è fatta una ragione. La loro liason è già finita? I fan del programma sperano di no ma quello che è certo è che Gemma ha passato un altro Natale da single ma senza dimenticare i suoi fan. Anche ieri sera, ben dopo la mezzanotte, la dama di uomini e donne è tornata sui social proprio per fare i suoi auguri più sinceri a chi la sostiene da sempre e a chi, in queste settimane, ha creduto nuovamente che tra lei e Giorgio potesse succedere qualcosa. In particolare, su Facebook la dama scrive, è già il 25. Io tempo passa sempre più veloce ma noi restiamo sempre qui. Trovo un momento per noi e per dedicarvi questo mio augurio sincero di un sereno Natale. Domani arriva la parte 2 ma per ora vi lascio ad un sonno tranquillo che si porta dietro l'amore condiviso di questa serata bacini iiii grandi e affettuosi. A domani iiii. Clicca qui per leggere il post di Gemma. Edda Hopper Siamo tutti orfani di uomini e donne ma solo a partire da mercoledì ci renderemo conto che il programma di Maria De Filippi è finito in panchina e lì rimarrà fino al prossimo 8 gennaio. Tronisti in bilico, Paolo Crivellina ancora senza una scelta e loro, Gemma Galgani e Giorgio Manetti pronti a tornare sulla cresta dell'onda anche nel 2018. Il 2017 si è chiuso proprio con la storia coppia ancora protagonista e lo stesso sarà nel nuovo anno visto che le registrazioni sono molto più avanti della messa in onda su Canale 5. Tutto è nato con il ritorno alla mente di Gemma del suo interesse per Giorgio e, in particolare, del momento in cui ha scritto la famosa lettera per lui per chiedere scusa e tornare sui suoi passi. Purtroppo non è valso a niente ma Gemma sembra sicura di poter riconquistare il gabbiano toscano anche se le polemiche in questi giorni li hanno nuovamente travolti. Davanti al suo dipicchi di Giorgio, Gemma prima si è detta convinta che qualcosa lo stia trattenendo e poi ha rilanciato prima accusandolo di avere una storia clandestina da un anno con Tina Cipollari e poi dicendo lo stesso su Anna Tedesco. Proprio l'amicizia tra Giorgio e Anna è stata al centro delle ultime puntate del Trono Over ma sicuramente sarà lo stesso argomento a riaprire il 2018. Chi conosce Gemma Galgani sa bene che la dama non molla mai e presto potrebbe tornare nuovamente all'attacco del suo gabbiano ma trovandosi un altro muro davanti visto che Giorgio non sembra intenzionato a cedere ad esse il nuovo Marco Firpo. La dama a quel punto placherà i suoi bollenti spiriti? Le prime anticipazioni sul 2018 parlano proprio dell'arrivo di nuovi cavalieri pronti a conoscerla. Come finirà?